Il 27 novembre 1889 l'ingegnere civile John Alexander Brody e gli agenti Sloan e Lloyd Barnes di Liverpool depositarono il brevetto del Net Pocket, ovvero della rete da applicare alle porte di calcio per raccogliere il pallone dopo la marcatura di un gol. Fino ad allora a sancire la marcatura del gol era un linesman o giudice di linea, armato di banale bandierina, con buona pace di goal line technology o di VAR. Tuttavia, per vedere una rete agganciata a una porta di calcio, gli appassionati italiani dovettero attendere il 7 gennaio 1906, quando i dirigenti del Milan si decisero il grande passo, in occasione dell'incontro di campionato Milan Unione Sportiva Milanese, che si giocò sull'allora campo del Milan, in via Fratelli Bronzetti all'incrocio con via Pasquale Sottocorno, e così descritto. Era un campo ampio, naturalmente racchiuso per metà dalla roggia delle lavandaie e dal muro dell'abbandonato cimitero di Porta Vittoria, per l'altra da una staccionata protrettice. Fornito di un portale d'accesso, avente sul fianco persino una biglietteria, adornato ben presto con una spaziosa e bella tribuna in legno, più tardi anche di una gradinata al lato dei posti popolari. Per la cronaca, la partita finì 4-3 per il Milan, e la prima rete, è proprio il caso di dirlo, fu dell'ala destra milanista Guido Pedroni. Gianni Brera ricorda l'episodio sbagliando l'anno, 1907 invece che 1906, ma aggiungendo un aneddoto gustosissimo. In via Fratelli Bronzetti l'operazione ha luogo il sabato. Durante la notte provvedono i ladri a far parlare di calcio i giornali, che fino a quel momento l'avevano snobbato. Le reti erano di volgarissimo spago. L'ispirazione al furto deve essere venuta da qualche massaia appassionata al pollaio. Evidentemente in quell'epoca il calcio non era la sola passione a muovere l'interesse delle masse, anzi delle massaie.